Buonasera Coach Capobianco in collegamento. Buonasera a tutti e complimenti. Grazie, grazie. Andrea, insomma, prima ho esagerato col paragone, però considerata la problematica della sanità in Calabria che sta spopolando su tutte le televisioni nazionali, ho provato una proporzione, ovvero ogni ospedale chiuso fa danni quanto ogni palazzetto di basket chiuso in questo momento. È un momento molto particolare, probabilmente non è il caso di fare questi paragoni, però è un momento critico e parlare di giovani è davvero complicato. Sì, è un momento veramente difficile, un po' difficile per tutti perché è normale, abbiamo cambiato completamente la nostra vita, questo è certo. E sui nostri giovani, secondo me, il fatto che non si possono confrontare, il fatto che non abbiano relazioni, relazioni anche, tra virgolette, fatemi passare questa parola, sotto stress, nel senso che quando si gioca uno contro uno, ognuno vuole vincere e quindi c'è un certo tipo di pressione. Ma questa pressione è altamente formativa, quindi assolutamente è una cosa positiva per come vedo io le cose. E certamente questo momento può essere veramente duro anche per questo aspetto. Cioè c'è mancanza di competizione tra le tante cose. E la competizione più importante nella vita, oltretutto, può sembrare quella con gli altri invece quella con se stessi. Prima ascoltavo attentamente le parole che sono state dette e certamente il fatto di essere competitivi con se stessi significa ogni giorno provare ad essere un po' migliori, partendo anche dagli errori che si fanno. Questa cosa certamente mancherà ai nostri giovani, è veramente un periodo duro. Oggi devono sviluppare molto il senso di responsabilità, leggermente diversa. Chiaramente è un momento critico anche per la palla canestro. Sono attivi soltanto i campionati nazionali, aspettando novità per il 2021, che francamente ancora sono indecifrabili. È cambiata la vita di coach Capobianco. Noi eravamo abituati a vederlo come una trottola in giro per l'Italia, tra formazione, partite, formazione. Come sta andando? Sta andando che, infatti adesso questa sera sono a vedere una partita di Serie B, sta cambiando, è cambiata perché sono molto a casa, faccio molti webinar, vado a vedere qualche partita, vedo tante partite tramite computer e roba varia. Però la cosa, io sentivo prima dire proprio il valore delle persone. Il valore delle persone lo si vede anche dai rapporti che si hanno. Questi rapporti in questo momento sono un po' freddi, perché logicamente sono un po' distaccati. E a me, che vivo molto di passione, di emotività, logicamente alla base c'è un certo studio, una certa razionalità, però vivo molto di rapporti, questa cosa qua manca abbastanza. Però io penso che dobbiamo essere veramente molto responsabili e quando si sentono certe cose in televisione, come tanti morti che ci sono, penso che bisogna un attimino ringraziare il Signore per come stiamo. Io ho assistito molto spesso a giornate azzurre, a cliniche di formazione anche online, condotti da Coach Cavobianco. E fondamentalmente quello che ho sempre apprezzato è la voglia e la capacità di trasmettere la carica verso tutti i territori, inclusa la nostra Calabria. Coach Cavobianco sicuramente saprà che Egidio Carbone, che fondamentalmente il volto storico del basket a Crotone è stato, ed è ancora, perché ancora tutti lo ricordano, una sorta di pilastro fondamentale. Passava tutto da lui, anche la crescita territoriale. Probabilmente è facile dirlo, sono persone che non esistono più, però da quelle persone probabilmente i giovani dirigenti, che ce ne sono purtroppo sempre meno, dovrebbero trarre spunto e la volontà di crescere un movimento che deve ritrovare quella forza, perché soltanto con la forza di volontà si può arrivare probabilmente anche un ritorno al passato, dove negli anni 90 tutti amavamo questo sport. Io dietro ho Dan Caldwell al Palabotteghelle che ci fece innamorare, però fondamentalmente bisogna ragionare che siamo nel 2020, quasi il 21, non siamo più negli anni 80 e 90. Cosa ne pensi? Sì, però io penso questo. Prima cosa, anche se non ho conosciuto direttamente Egidio Carbone, io quando parlo, quando vado a qualche parte, mi informo, perché onestamente penso che sia una mancanza di rispetto non sapere le cose e andare non preparati. E quindi so quello che ha fatto e so la testimonianza che ha dato. Cioè io divido molto le persone e divido molto i propri concetti tra il saper essere e il sapere apparire. Quando uno sa vivere di saper essere, quindi fa le cose, lascia sempre dei messaggi molto forti che chi viene dopo in qualsiasi campo può solo apprezzare, far suo e far continuare a vivere quei messaggi che c'erano prima. Io penso che, quello che hai detto tu, ci sono sempre meno dirigenti, io mi auguro che un domani tutti quanti, chi ha amato questo sport, possa capire realmente che la figura del dirigente è molto importante, e molto importante non solo nell'ambito pallacanestro, ma parlo a livello proprio di vita sociale. Un dirigente può essere una luce per ogni ragazzo. Allora io credo che i ragazzi che smettono di giocare, che non vogliono fare gli allenatori, io mi auguro veramente che vogliano restare all'interno di questo mondo stupendo ricoprendo questa figura che è fatta, come una fatta a carbone, che è fatta in un certo modo, veramente lascia dei segni. E quindi io mi auguro, e io penso che di questo abbiamo bisogno, io ho cari amici in Calabria, carissimi amici, e so quanta passione e quanta competenza hanno. Allora queste persone non vanno messe un po' da parte, ma vanno ogni volta richiamate perché possono dare una grande mano e possono far rivivere quei valori fondamentali per la pallacanestro. Coach, buona partita, grazie mille per il tuo preziosissimo e ci vediamo, speriamo di persona quanto prima. Non sento bene. Pronto? Io ti stavo salutando, spero che tu mi possa sentire. Adesso sì. Ti stavo salutando. Sì, sì, adesso sì. Spero di poterti vedere di persona quanto prima, vorrà dire che la pandemia l'avremo bella e salutare. Buona partita. Io vi ringrazio per l'invito, mi ha fatto molto piacere stare questi po' vichi minuti con voi. Io vengo dai campi all'aperto, quindi veramente mi fanno piacere ogni momento in cui si parla di rapporti umani all'interno di uno sport che può essere una scuola di vita. Quindi un grazie di cuore per l'invito. Grazie.